Queste sono le emote più sass di Fortnite Partiamo con Aquila, rilasciata in Season 4 Si va di emote? Si va adesso! Era nel pass battaglia della Season 6 Ma abbiamo anche concentrazione laser, rilasciata nella Season 4 del Capitolo 3 Poi gusto sgocciolante, mega sass! Ovviamente lascia un bel like se riesce a capire perché sono sass queste emote Ma dopo questo ballo della Season 3 del Capitolo 3 Abbiamo, ma anche sì, il ballo di buca della Season 7 Capitolo 2 Ora, posizione numero 5, rilasciata nella Season 3 del Capitolo 3 Un giro sul tappeto, Aladino Sassolino Posizione numero 4, Fandanza Che nome scemo, rilasciata in Season 8 Capitolo 1 Top 3, allora, non stop, rilasciata in Season 7 Capitolo 3 Cavalca il Pony, rilasciata in Season 2 È la più sass di tutte Anche ballerine Season 1 Capitolo 2